Che devo pensare della nuova PlayStation 5? Cioè, l'unica cosa che mi viene da dire, e ormai comincia a diventare quasi una cheat dannata, è una cafonata. Cioè, pagare 800 euro, una console, tra l'altro 800 euro per la roba senza il lettore del disco. Perché se volete il lettore da disco, so tipo un'altri 150, arrivate verso i 1000, per non parlare anche di uno standino per tenere bene la console. Che devo dire? Letteralmente hanno fatto una combo tra, boh, uscite di merda, perché uscite di merda, la cosa più bella di recente della PlayStation è Astro. Giuro, io ho visto qualche gameplay, ho fatto madonna di Cristo, bellissimo, a livello di platforming, di gioco, di chicche, di cheat. Cioè, fosse stato che dici, Stano era uscito, Bloodborne Remastered, God of War 3, qualche altra roba, dici sì, abbiamo bisogno della PlayStation 5 Pro. Perché poi hanno fatto vedere delle robe che, per carità del cielo, è più frame, più risoluzione. Ma io voglio sapere, ma quale persona, prima di tutto, ha uno schermo? Cosa serve l'8K? Cosa serve l'8K, dio madonna? La gente a Stanto gioca a quattro, se c'hanno la madonna di Cristo? Oh, io ripeto, che dire, una cafonata. E proprio, secondo me, a livello di come stiamo qua in mezzo, come sta girando Sony, è stato inutile. Che io capisco da una parte che tu sei fatto tutte le PlayStation 5 Pro, hai fatto tutto il cazzapippolo di Cristo. Non è perché te sono andate male, che ne so, l'ultimo anno, dici, vabbè, è bella se siamo visti. Devi gacciarli fuori. Ma Cristo, madonna. Cristo, madonna. Perché poi non voglio immaginare con qualche altro bundle in mezzo, eh. Tra controller, gioco, quanto cazzo può arrivare quella roba. Quindi, ripeto, il sunto della discussione è una cafonata. Ma ve lo sentite De Sica, una cafonata. Così, ecco quello. Cioè, è semplice, semplice. Perché comunque poi, la gente non ci pensa, ma quando cominci a salire così tanto di prezzo, io capisco che dentro ce sta quel che ce sta. Però continuo a dirlo, tu puoi avere quanta cazzo di potenza di calcolo vuoi. Il problema delle console è sempre lo stesso. La CPU. Cioè, ci puoi mettere dentro anche il toretto con la pelata, con il bicipite e così, che fa brum brum. Se il cervello è quello, boh, di un morto che cammina, è tutto un cazzo. Senza contare i giochi, sì, che ogni volta, mo' cominciano a costare sugli 80 euro, eh. Tanto poi c'è il pass. Sì, sì, cioè, il fatto è che è proprio quel, è che non è soltanto la cosa dell'800 euro. È che poi viene tutto quello che c'è dopo, no? Cioè, il controller, i giochi, l'abbonamento e altri cazza pippoli. Per non parlare che mi fai pagare 800 euro e non mi ci metti neanche lo stendino da 30 euro dentro. Sei proprio stronzi. Fate vuoti. Siete stronzi. Potevo capire la console quando hai le esclusive, ma calcolando che in questi ultimi anni sono uscite 5 esclusive e 45 remastered e roba made Sony di merda. Cioè, è proprio, io voglio una PlayStation 5 per giocare, che cazzo ne so, ha quei tre giochi in croce? Ma a un certo punto non vale più la candela, no? Tanto, tempo al tempo, tutta la roba Sony sta arrivando su computer. Non mi ricordo se pure Ragnarok. E arriverà piano piano tutto il resto. Quando potrebbero cominciare a fare o sequel o remake veri e propri dei loro vecchi IP della Madonna. O sai com'è? Vi stoccai Bloodborne dall'alba dei tempi. Una remastered e Bloodborne. Non ti vi fanno sbancare come il Cristo Re ci mette a fianco una statuetta di Lady Maria in posa sexy. Non è vero in realtà, la posa sexy è lei che dorme. Basta. È infatto. Basta.